Torna a Natale a Grosseto tutti gli eventi con il centro storico che si anima per le festività natalizie con la rassegna firmata Centro Commerciale Naturale e Comune di Grosseto. Sì, noi siamo gli organizzatori primari, sono state le sinergie e le collaborazioni per rendere possibile questo in un momento di grave crisi congiunturale, di aumento dei costi non potevamo rinunciare ad un Natale scoppiettante, ad un Natale meraviglioso da regalare a grandi e piccini e quindi abbiamo rinnovato la casa di Babbo Natale al Cassero in Piazza Dante tantissimi eventi, ci sarà veramente tanto di cui divertirsi e di cui bearsi e giovarsi ci saranno le casette del Natale, a ripetere il grande successo dell'anno scorso ma anche tanti eventi ludico-ricreativi, convennistici, anche di musica, di arte e di partecipazione che faranno di questo Natale veramente un qualche cosa di imperdibile e di indimenticabile. Seconda edizione, Natale a Grosseto, siamo veramente felici di proporre un cartellone di iniziative veramente importante con il contributo del Comune e per le iniziative saranno aperti i teatri, i musei, veramente tante tante manifestazioni oltre le nostre anche tanta tanta cultura. Vi invito naturalmente a passeggiare per il centro di Grosseto.